ciao amici tariato games buongiorno e buon ferragosto anche oggi sono con voi per raccontarvi delle novità di football perché ci sono delle novità per oggi ma anche per i football v 4.0.0 in arrivo a metà settembre dal 12 settembre in poi dopo la data esatta ancora non la sappiamo c'è una novità ufficiale da parte di konami che vi vado subito a mostrare qui continuano i vari premi qui c'è un oggetto ma questo è quello vecchio questo è nuovo campagna con regalo manchester united e allora questa è la novità per i football v 4.0.0 abbiamo ricevuto numerosi feedback aiutanti per chiederci rendere gratuito il reset il progresso giocatore a seguito di ciò abbiamo deciso di rendere gratuito il reset il progresso giocatore con l'aggiornamento v 4.0.0 previsto per metà settembre 2024 a partire dalla v 4.0.0 potrà risettare il progresso giocatore senza spendere gp per celebrare questa modifica ad oggi sarà disponibile una campagna per il reset gratuito il progresso giocatore approfitti questa occasione per risettare il progresso giocatore segue i passaggi di seguito va bello voi sicuramente lo saprete già fare il reset progresso allora le due novità di football v 4.0.0 fino a questo momento sono due la fine del dei contratti e il reset dei giocatori gratuito io ragazzi con estrema sincerità vi dico la mia opinione è soltanto la mia la sensazione che la parte strategica del gioco stia andando a farsi benedire che sia sempre più semplice fare tutto a parte avere le monete e tutto sembra un po andare in quella direzione li puoi resettare li puoi avere per sempre perché non c'è più ci sono più i contratti compra giocatori un po a me suona suonano queste cose può essere che mi sbaglio e non lo so comunque qui importante revisione di termini utilizzo beh questo ci interessa poco saldo negativo e le monete sono altre robe ci interessano a poco con ami continua a dire che sta facendo il possibile contro i furfacchioni che cercano di fare le cose in mozioni dati salvaggi inattivi queste e questo siccome era un po che non entrava nel mobile sono le notizie dell'aggiornamento stagionale lingue non più disponibili e vabbè questo sono tutte robine diciamo quindi questa è la questione principale reset giocatori da i football v4.0.0 gratuita da adesso in questo momento c'è pure un periodo gratuito e questo è quanto volevo vedere le missioni obiettivi qui ci saranno nuovi ci sono i campionati in focus eccoli qui campionati in focus vinci partito usando giocatori la liga bbv mx scusate bmx un'altra cosa quindi messicano vinci partito usando 13 giocatori trend e all super league il campionato turco un'aggiuntabilità un'aggiuntabilità questi sono i premi almeno ecco non facciamo sempre cose giapponesi 777 milioni download diciamo continuano tutti gli obiettivi della campagna saranno probabilmente aumentate adesso non posso verificarlo dal mobile perché qui non avevo fatto ancora nulla comunque diciamo la novità è quella successivamente andiamo a vedere gli eventi eventi pvp abbiamo come al solito il cop e come al solito dura tre giorni e 17 ore c'è un evento unlimited evento sfida con legate 777 milioni download vediamolo aggiuntabilità il premio finale diciamo niente di particolare questo invece l'english clubs vediamo una aggiuntabilità per due quindi e qui include 23 giocatori del seguente scambio di gioco ovviamente per squadre inglesi quindi vuole vedere pure i premi ci sono le 50 monete i football una aggiuntabilità due aggiuntabilità vediamo se ci sono le monete anche per l'evento unlimited tutto 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 no 10.000 punti esp un'aggiunta abilità e basta questo l'english clubs no l'unlimited invece legato anche alla campagna 777 milioni di download evento versus ia andiamo a vedere anche qui english clubs qui abbiamo un summer transfer volume 2 quindi diciamo non più per i giocatori riciclatoni ma per i summer transfer volume 2 che poi andremo a vedere c'è un evento manchester united che dura 13 giorni e qui regala scolz e beh questo diciamo c'è questa campagna scolz che non è male scolz per uno e poi 100 gp quante partite c'è da vincere una partita diciamo che che non è non è difficilissimo completare questo evento scolz è un giocatore che non ci dispiace affatto sarà un po da vedere la versione però parla di epic scolz quindi direi che non è affatto male e questa è la campagna manchester united questo tutt'altro questi sono tutti eventi vecchi e diciamo scolz è un bel regalo è diciamolo un bel regalo di ferragosto poi andiamo un po a vedere altre novità qui ci sono tutti i premi cevi tutti eccolo qui bruno fernandes si inisce la tua squadra quello andiamo a vedere come in regalo revisione vuole vedere se diceva qualcosa la campagna manchester united perché mi è stato girato da francesco leggendo 88 grazie francesco però qui non lo riprende però l'abbiamo visto che c'è in regalo scolz epic che non è affatto male andiamo un po a prima fatemi vedere questo bruno fernandes penso che ce l'avevate già tutti però eccolo qui dettagli giocatore squadre di club tipo di carti in evidenza presa in camp e giocatore chiave vedete quali sono le zone di del campo migliori per lui valutazione generale 83 passaggio alto 82 il suo top insomma non è che questo gran regalo perché di bruno fernandes in regalo abbiamo ricevuto tanti negli anni però però è sempre un regalo diciamo che scolz è decisamente molto ma molto più interessante come regalo andiamo a vedere ecco lista giocatori speciali paul scolz ah no forse questo è un giro no li diceva epic 100 monete 50 giocatori no forse è solo per un giro aspetta poi puoi andare a rivedere un attimo ragazzi perché adesso non vorrei dirvi una cosa per un'altra partita evento versus sia manchester united allora completa sfidettino un accordo al buio epic scolz no 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 accordo al così forse solo ti fa fare un giro gratis del 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 pacchetto sì 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 mi sa di sì un premio fantastico accordo al buio epic scolz sì io penso che sia solo un giro gratis perdonatemi leggendo così sembrava un'altra cosa e allora andiamo a rivederlo eccolo qui penso che sia così se qualcuno rapidamente ha fatto l'evento e può farlo presente meglio però da da come si vede qui direi che è così questo scolz è abbastanza impressionante tutto 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 ecco qui le sue parti questo è bustato quindi 86 di valutazione generale controllo palla 84 finalizzazione 82 insomma un gran bel giocatore effetto più due sempre valido abilità giocatore non mancano 99 di overall generale sarebbe un buon giocatore però purtroppo non ce lo regalano c'erano solo un giro gratis però ci sono 50 giri almeno non i soliti 150 poi abbiamo il summer transfer volume 2 andiamo un a vedere chi ci sta non li vediamo in dettaglio però vediamo che c'è cucubo ito debast taremi fulcrug smith rowe spinazzola al napoli l'hanno messo tre giocatori in evidenza la settimana scorsa con la roma dopo aveva già giocato una partita ufficiale vabbè l'enormanda glas luis nella juve onana e mbappé real madrid finalmente e qui potete appunto con facendo gli eventi prendono un giro gratis per avere uno di questi giocatori vediamo questo mbappé come opportunista un sacco di posizioni buone valutazione generale 86 questi si possono livellare non c'è il problema non sono come giocatori la settimana e qui abbiamo tutte le sue abilità che non sono affatto male summer transfer e basta il di epic c'è solo scolz che secondo me questa cosa di mettere una leggenda i 50 giocatori è molto meglio di metterne 3 con 150 perché se proprio qualcuno è interessato a un giocatore specifico la spesa da sostenere è decisamente ridotta e magari proprio diventa diventa un pochino più accettabile rispetto al pool dei 150 giocatori e numeri 7 back in the game niente abbiamo finito qui ragazzi le novità di oggi sono queste vi ho intrattenuto per dieci minuti se ancora non siete iscritti al canale io vi invito a farlo siamo ad un passo dai 17.200 iscritti vi invito a mettere mi piace come ogni giovedì anche a ferragosto per fare il boost di mi piace nel video del giovedì a server accesi io vi ringrazio ancora per l'attenzione vi auguro un buon ferragosto domani credo che ci sarà sempre qualcosa anche sabato domenica no fatemi sapere cosa ne pensate della fine del costo del reset del progresso dei giocatori che già da oggi è gratuito non so per quanto tempo ma lo sarà per sempre dalla versione 4.0.0 di football buon ferragosto fatemi sapere cosa fate a ferragosto un saluto ragazzi e buon tutto ciao